Ciao a tutti, sono Sabrina Cortese e interpreto il ruolo di Clorinda. E io sono Daniela Adriani, scusami, e interpreto il ruolo di Tancredi. Nel combattimento di Tancredi e Clorinda di Monteverdi e di... e nell'opera anche di... Ah sì, di Claudio Ambrosini, Tancredi e Appresso il combattimento. E la differenza fondamentale del mio personaggio è che in un'opera... È viva. È viva. E nell'altra... È morto. Perché appunto Monteverdi descrive la vicenda del combattimento e poi la morte. Invece Ambrosini descrive... Tancredi che si strazia per aver ucciso Clorinda. Esatto. E piange davanti alla sua tomba. Si duole, si duole, si duole. Invece il personaggio di Clorinda appunto è un personaggio molto etereo e ultraterreno. Morto. Morto. E quindi niente, vi aspettiamo al Real de Festival. Al Teatro Flavia Vespasiano. I giorni 17 e 18 ottobre. E poi? Basta. Ciao! Ciao! Ciao!